Lunedì 31 ottobre, Student Party, festa di Halloween. Al Re Club di Reggio Emilia, la festa ufficiale degli studenti reggiani. Special guest DJ from Peter Pan Riccione, Nicola Zucchi. Laser Show, Hot Dancers. Lunedì 31 ottobre, Student Party, festa di Halloween. Al Re Club di Reggio Emilia, la festa ufficiale degli studenti reggiani. Re Club, ex drive-in, via Balla 5 a Reggio Emilia. Per info e prenotazioni, contattaci su Facebook e iscriviti all'evento.